Ciò che è accaduto stamattina in questo tribunale è semplicemente osceno. E' osceno nei confronti delle persone decedute in quella fabbrica, e' osceno nei confronti delle persone che sono venute qui all'estizio al processo, ed è osceno perché viene di meno quel principio sacrosanto della parità di fronte alla legge. Perché qua siamo tutti uguali di fronte alla legge, ma c'è qualcuno che è più uguale degli altri. Ecco questo poi il principio, almeno stamattina ancora una volta è stato riparito, perché con gli atteggiamenti, tutto ciò che è successo, di cui siamo stati testimoni, quindi non va a besperare.